Massimiliano, cosa state preparando? Stiamo preparando una margherita extravergine. Alla base abbiamo un impasto realizzato con la nostra farina, il miscuglio evolutivo. Questo grano che ci coltiva Giuseppe Lirosi in Sicilia. Poi abbiamo un pomodoro, siamo in provincia di Salerno. Un pomodoro di una vecchia varietà che ci coltiva Marianna. E una ricotta di Martino Patti. Siamo a Castagneto Pò. Martino è uno che alleva le capre. Ci piace pensare, anzi pensiamo proprio che lui sia un po' fuori di testa come noi. Nel senso che Martino è uno di quelli che strappa i fiori dagli alberi per dargli da mangiare alle capre. Perché secondo lui il formaggio è più buono. E non ci arrivano le capre. Questa pizza è stata preparata da Massimiliano Prete Sesto gusto Torino